Una sfida tra noi Buttati tutto prima così Giusto la torcia Solo la torcia ragazzi Fida Massimo massimo Sì sì massimo massimo un MF se volete Ma massimo massimo Ragazzi siamo impazziti? Posso trovarlo così solo per la torcia del basso Siamo impazziti Torcia e MF La macchina fotografica l'avete presa su? Non è che io ho avuto sinistro Io ho avuto sinistro Sì Charles qualcosa Qualcuno che viene con me raga Ok Vengo io vengo io Sono dietro Ok ragazzi sia soli Ok È qui 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 telefono Sì sì Abbiamo assolutamente libero Charles Charles Dove cazzo sei Charles? Mostra che bastardo Charles Charles Dove sei? Dacci un segno Charles Ah È qui 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 Porca puttana Mi sono cagato C'è alitato Corri C'è alitato nell'orecchio Via 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 8 Chi Cazzo Puttana Porco due Cazzo Sono dentro di fianco a me Ho avuto paura No Sei tu quella che devi? Sì 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 Scrivi sul libro Charles Charles Mostrati Charles mostrati Charles Scrivi sul libro Quanti anni hai? Quanti anni hai? Dove sei? Dove sei? Sì, sì, ho controllato ma non c'è nulla Dove sei, Charles? Iiii 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 Dove? Dove? Oh, cazzo Oh, qualcuno è morto Raga, è nudo È nudo No, stiamo corriendo tutti Raga, era nudo Guarda la foto No, no, guarda la foto è nudo Dopo un'ora Sì, sì, sì È anche in minuto Vabbè raga, io vado a cercare l'impronte vento Vai, vai Madonna ragazzi Mi sono venuti brevi Ce l'abbiamo avuto in fianco Era nudo Fantastico Fantastico Ok, qui Attacca, attacca, attacca Già, vai Viura provしたllate prossimo!! Ehm, io z 2021 Questa è un gruppo pentru noia Facebook. D'annuna, d'annunque! D'annunca il olma!! ... Era nudo... Era nudo... però cos'è? ... Chi è che sta ... Chi è che sta si dramatizzando? Oh no cazzo Vai vai tranquillo Ah non mi si apriva Ma è andata come è andata ragazzi Chi si è visto si è visto Madonna mia ragazzi Non abbiamo fatto in tempo aprire la porta che lui ci ha chiuso Ci ha chiuso il maledetto Ci ha chiuso il maledetto mare Carol Smith e risponde a tutti Ok ci siamo Carol Smith Torcia Manetta Vai ragazzi vai che non ci fa paura Prendiamo macchina fotografica Per adesso prendiamo queste due cose qua Un MF e un termometro a sinistra Un MF e un termometro a destra Io ho un MF e un crocifisso Io ho il termometro Sto andando a sinistra Ti vengo conto a sinistra che c'hai il MF Ma cosa ho detto ma sono un genio Figa l'ultima classe a sinistra di meno 10 gradi Sono un genio Cazzo Oh Attività 2 Attività 2 Ha scritto live or die Interessante Carol Smith dove sei? Ragazzi ho un problema tecnico tattico Quale? Mi sono ufficialmente perso È qui è qui è qui è qui Qui in classe in classe in classe aiuto Già fate due Oddio c'ho paura Bravi qua 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 È scomparso È scomparso Ho fatto due foto Ho fatto due foto Minchia Vieni fuori Grazie Grazie Caro Smith puoi rispondere? Ma raga mi è sparito il crocifisso Bellissimo Vuol dire che ti ha attaccato No io eri morti Ora non ce l'hai Infatti La cosa La cosa del crocifisso Non c'è più Quindi ti ha Ha provato ad attaccarti No era preoccupante Perché se non ce l'avevo io Ma mano Eri morto Esatto Te prendi Raga credo che stia attaccandomi Sto scappando Sto scappando No è qua dietro Dove cazzo è? Porca puttana Ce l'ho io Ce l'ho io Ah Sei qui Sei qui Arrivo 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 Sei posseduto? Ah Qui scappa 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 Pro Sono morti tutti Ma è posseduto questo qua? Ci sono salvi Ci sei? Sei posseduto? Io anche sono Ah Pensavo che fossi posseduto Attacca Corri Via 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 Sono morto Sono morto Ci siete? Sì Uno è morto Era lì Era lì eh Era lì raga Fotografatelo Ok Ok fatta E' qui E' qui Davanti Penso che sia Lo U-ray No? No no Ecco Scusate Ho portato il congelamento Sfere di luce E mica Avete detto che ha scritto sul libro Sì Esatto Sì Allora andiamo U-ray Su Wood Wood Guardiamo se è quello U-ray 170 dollari Attenzione Abbiamo fatto tutti gli obiettini Dai 228 dollari Nostra assicurazione no Oh mica male Mica male ragazzi